gentili telespettatori buona giornata tutte le donne fuori dal pd per sei mesi nel gruppo misto l'sms che arriva lucia annunziata conduttrice televisiva tendente verso sinistra ma potrebbe succedere un terremoto in parlamento a questo punto ma vediamo di che cosa di cosa si parla il pd è una bella grana perché tutti i partiti tutti hanno dato a draghi una lista dice guardi draghi questi sono quelli che per noi potrebbero essere dei ministri sempre che lei voglia fare qualche ministro anche nel nostro partito tutti i partiti hanno negato noi con draghi parlato di ministri ma va assolutamente no tutti hanno consegnato la loro lista dei ministri anche il pd solo che il pd a differenza degli altri partiti ha consegnato una lista di possibili ministri dove non ci sono donne o perlomeno magari c'erano e draghi non le ha scelte ha scelto tutti i uomini e così adesso zingaretti ha una bella gatta da pelare perché le donne si sono del pd sono infuriate hanno detto questo è macismo questo è maschilismo ci pensa silvio le donne che su tre ministri ne ha fatto due donne quindi una bella gatta da pelare perché sono state completamente escluse le donne del pd della lista dei 23 ministri del governo presieduto da mario draghi sempre nel pd dicevano la più la donna più a sinistra è mara garfagna come dire almeno nel centro-destra hanno messo delle donne mentre qua di donne non ce n'è anche salvini ha messo c'è una donna nel tra le tre ministri del del carroccio nel pd zero e questo ve la dice anche tutta è ve la dice anche tutta su un certo modo di ragionare beh è in atto una vera e propria rivolta all'interno del partito con nicola zingaretti che proverà a calmare le acque nominando più donne come sottosegretari ma le donne non va bene volevano fare le ministre e così hanno fatto bene a protestare dice lucia annunziata in un'intervista rilasciata alla dn kronos anche questo è un modo per uscire da un ruolo subalterno i toni sono buoni e hanno fatto bene a metterlo sul tavolo e così nel programma mezz'ora in più lucia annunziata dice non bisogna chiedere le cose agli uomini ma bisogna prendersele certo loro sono divise tra l'interesse del partito e il loro interesse ma un gesto andava fatto quindi lei dice beh fanno una protesta ma fino a un certo punto perché sennò vanno poi contro i loro interessi nel senso poi magari poi non vengono più neanche ricandidate in un futuro se fanno troppo casino che siano uomini o donne chi fa troppo casino poi viene messo in un angolo gli dicono niente vedrai la prossima volta con le prossime candidature come ti rinomino ecco e quindi poi l'annunziata avanza un suggerimento alle donne del pd che a sua volta ricevuto da un'amica dice mi ha mandato un messaggino che mi diceva di aver pensato a un'idea tutte le donne del pd che escono dal partito democratico e confluiscono nel gruppo misto per sei mesi lei dice ho pensato che idea fantastica tu pensa per sei mesi le donne anche di altri partiti che operano nel gruppo misto e che una sommossa popolare che ma che vuol dire tutte le donne che si mettono al gruppo misto di tutti i partiti e che una rivoluzione ma insomma non bisogna esagerare con le col con le cose ci vuole il giusto me la giusta via di mezzo perché insomma allora non si può e allora gli uomini cosa dovrebbero dire andare tutti nel gruppo misto e lasciare le donne mi sembra un po di quelle cose un po troppo di parte quando poi l'essere di parte diventa quasi un soppruso verso l'altra parte chiamiamola così un'idea che ovviamente non verrà mai messa in pratica anche se l'annunziata ha sottolineato che non è una battuta io credo che si debba davvero pensare a qualcosa del genere sarebbe il gruppo più forte del parlamento farebbe vedere esattamente il peso delle donne quello che valgono ma nessuno mette in dubbio il valore delle delle donne io non dividerei in donne uomini io direi che sono esseri umani tutti quanti non c'è sì è ovvio che le donne vengono pagate meno sul lavoro questo è è una ovvietà è vero è così e quindi la parità di genere secondo me c'è già la parità di genere c'è ancora qualcosa come nel mondo del lavoro la donna che prende un po meno però io credo che ormai la parità di genere ci sia a questo punto però prima c'era prima c'era una prevaricazione dell'uomo sulla donna adesso non vorrei che le cose diventassero al contrario dove c'è la donna che prevarica sull'uomo lo schiaccia tu non vali niente schifezza umana essere in mondo essere in mondo ecco insomma va bene la parità ma non dobbiamo poi finire dove l'uomo poverino viene schiacciato come come una lumaca schifosa insomma piaciuta questa come una lumaca schifosa bene insomma queste provocazioni sono un po un po curiose lasciano un po il tempo che trovano anche perché poi poi la l'annunziata un po sembra un po confusa in questi giorni perché in un'intervista a salvini ha detto delle cose sconnesse si è messa le mani nei capelli sono impazzita cosa sto dicendo salvini è rimasto lì che la guardava un po così come dire in che senso ecco quindi insomma l'annunziata è un po vi ricordate che qualche tempo fa al posto di parlare di dire maglioncino diceva il coglioncino insomma c'è si vede che quando parla sta pensando a un'altra cosa no ad altre cose gli viene un mix di parole no e quindi si vede che ai tempi stava pensando che di fronte aveva un coglie allora quando dice maglioncino gli viene fuori il coglioncino e salvini anche lì era rimasto un po un po così e avrà pensato in che senso ecco quindi diciamo che adesso se ne è uscita l'annunziata lo vedremo in un altro video che i partiti sono come i cani no e poi se le presa con la meloni dicendo che cos'è una mucchiata no nel centrodestra c'è una mucchiata centrodestra non c'è nessuna mucchiata c'è c'è la meloni che lì da sola e gli altri due che sono entrati quindi tutta questa mucchiata dov'è non si sa però poi elogia la meloni dicendo ha fatto bene a stare fuori insomma diciamo che l'uccia annunziata sembra leggermente confusa in questi ultimi giorni ultime settimane ultimi anni va bene io vi ringrazio per avermi ascoltato vi invito ad iscrivervi al canale l'iscrizione è gratuita siamo anche in facebook in instagram e nell'altro canale di youtube teleitalia seconda rete nella community trovate anche tanti sondaggi quali potete partecipare e commentare mentre l'iscrizione al canale vi dicevo è assolutamente gratuita non comporta null'altro che un aiuto al canale ad essere più visibile se volete ci vediamo tra circa 20 minuti qui sul canale per un altro video parlando principalmente sempre di politica ma anche delle notizie più importanti che accadono in italia grazie a tutti e buon proseguimento di giornata grazie a tutti